L'invenzione della ruota è considerata una delle scoperte tecnologiche fondamentali nella storia dell'umanità. Secondo la maggior parte degli studiosi, la ruota è stata inventata intorno a 6.500-5.500 anni fa, circa 4.000-3.500 anni prima di Cristo, e originariamente fu applicata in due ambiti diversi, per costruire i torni dei vasai e per i trasporti 1. La teoria più accreditata colloca l'invenzione della ruota in Mesopotamia, l'attuale Iraq, intorno a 6.200 anni fa. Per quanto riguarda i primi utensili usati dall'uomo, gli utensili di pietra più antichi del mondo provengono dal Kenya e hanno circa 3,3 milioni di anni. Questi strumenti litici, come scheggi affilate, incudini e martelli, sono stati costruiti molto prima della comparsa del genere Homo Daominidi con un'intelligenza finora. Insospettabile 2. Il primo uomo a padroneggiare dei ciottoli scheggiati, noti come Chopper, fu l'Homo habilis, che diede vita alla produzione olduvaiana, le cui testimonianze più antiche risalgono a 2,6 milioni di anni fa e segnano l'inizio del paleolitico inferiore. Gli usi iniziali della ruota, dopo la sua invenzione, erano principalmente due. Torni dei vasai, la ruota veniva utilizzata come tornio per la fabbricazione di ciotole, vasi e altri recipienti. Trasporti, inizialmente, la ruota fu applicata nei carri trainati da animali, come gli onagri, asini selvatici, che venivano usati soprattutto per scopi militari. Solo successivamente, i carri con ruote iniziarono ad essere impiegati per il trasporto di persone e merci questi primi utilizzi hanno, segnato l'inizio di una rivoluzione nei metodi di trasporto e nella produzione di beni, influenzando profondamente lo sviluppo delle civiltà umane. La ruota ha ridotto significativamente l'attrito durante lo spostamento di oggetti pesanti, rendendo più efficiente il trasporto su lunghe distanze e la ruota ha avuto un impatto significativo su molte innovazioni nel corso della storia. Ecco alcune delle principali innovazioni influenzate dalla ruota, mezzi di trasporto. La ruota ha permesso lo sviluppo di carri, carrozze e, in seguito, di veicoli motorizzati come automobili e treni macchinari. La ruota è stata fondamentale per la creazione di macchine più efficienti, come i mulini ad acqua e a vento, che hanno rivoluzionato l'agricoltura e la produzione industriale ingranaggi. L'uso delle ruote dentate ha permesso lo sviluppo di ingranaggi, essenziali per la meccanica e per dispositivi complessi come orologi e macchinari industriali filatura. In India, oltre 2500 anni fa, è stato inventato il filatoio che utilizzava la ruota per filare fibre naturali come cotone. Lino e lana queste innovazioni hanno portato a un notevole miglioramento dell'efficienza e della produttività nelle attività umane, trasformando il lavoro e la vita quotidiana e ponendo le basi per il progresso economico e culturale delle civiltà. La ruota è diventata un simbolo universale di progresso e innovazione, rappresentando un punto di svolta nella storia dell'umanità. Grazie a tutti.